Buongiorno e benvenuti a questa rasseglia stampa di oggi 6 aprile 2020, oggi è lunedì quindi io ritorno in onda, sono molto felice, sono molto contento di tornare con Quarta Repubblica, speriamo di riuscire a dare a Quarta Repubblica un'idea un po' diversa rispetto al giornale unico del virus. Vi segnalo anche che ovviamente la televisione è un po' diversa rispetto al gergo che utilizzo le parolacce, il modo di fare, senza cravatta e le posizioni molto dritte che ho sulla zuppa, qualcuno di voi vorrebbe, ah in televisione devi continuare a essere così, cercherò di essere, di farvi capire il più possibile il mio punto di vista anche se lì non è un monologo, è una specie di orchestra che cerco di, come possiamo dire, in maniera più o meno artigianale di gestire. Però andiamo sul dunque dei giornali di oggi, che cosa è successo? Quello che è successo è molto semplice, perché quello che è successo è che finalmente sono calati i morti a 595. Tra l'altro poi l'altra cosa incredibile di questi giorni è che voi vedete tutti questi grafici sui contagiati e vi dicono il calo del contagio eccetera, a me questa cosa mi fa impazzire, perché i contagiati sono una fake news, come si dice oggi, ne parleremo poi del presidente delle fake news, perché i contagiati semplicemente sono così, un numero tirato a caso, cioè quelli che gli fanno i tamponi, una minoranza dei cittadini italiani. Il fatto che ci siano, non so, più contagiati o meno contagiati deriva soltanto dal numero dei tamponi, cioè dei pochi fortunati, compreso il sottoscritto, che hanno subito il tampone. Quindi è una minchiata, anche sui morti ci sarebbe da fare tanto ragionamento, per esempio chi si fida di voi dei morti che sono veramente avvenuti in Cina? Però è certo che i morti si vedono, si contano, si ha la certezza di quello che sta avvenendo e 595 morti è il dato più basso dal 19 marzo, come sapete, però sono tantissimi, tant'è che secondo me è molto interessante oggi, Libero e Feltri, che come sempre le cose non le mandano a dire, e dicono Borrelli esulta, ma nessun paese europeo ha fatto, nessun paese al mondo ha avuto tanti morti quanto noi. L'altra cosa che vi segnalo, perché questa cosa della contabilità a me fa impazzire, perché oggi Wall Street Journal per esempio fa il taglio centrale del suo giornale dicendo che sarà la settimana più buia dell'America perché arriveranno a 10.000 morti, sono arrivati circa 10.000 morti e potranno salire. E tutti gli italiani, ah vedi gli americani che hanno sottovalutato Trump il cattivone, poi tra poco ne parleremo di Trump, però c'è un piccolo elemento che io non riesco a capire come nessuno, ma neanche banalmente lo colga, l'Europa è confrontabile con l'America, cioè l'America non è confrontabile con un paese da 60 milioni di abitanti, un paese come la California ha un PIL superiore all'Italia e ha più cittadini che in Italia, ma di che stiamo parlando? Ma come si fa a paragonare i morti statisticamente dell'America con quelli dell'Italia? E' sbagliato anche probabilmente le medaglie alle Olimpiadi, mi rendo conto perfettamente con voi, ma oggi che dovremmo essere un pochino più seri, godere dei morti americani, perché questo è quello che avviene, perché loro hanno sottovalutato e quindi moriranno, io non godo per i morti neanche degli svedesi, ovviamente, o dei ruandesi, chi se ne frega, il punto è che però ragazzi cerchiamo di non mischiare i dati come stanno facendo oggi praticamente tutti i giornali, paragonando l'America a un paese da 60 milioni o a un paese da 50 milioni, sono paesi completamente diversi, se ancora la matematica e la statistica hanno un senso, ma non ce l'hanno. La prima cosa bella cita Repubblica, quindi in realtà quando il giornale unico del virus sta dando questa idea, forse il Comitato di Salute Pubblica probabilmente ci riaprirà le gabbie dove siamo chiusi in arresti domiciliari da 40 giorni. In realtà poi la cosa più interessante è quel titolo del giornale di Sallusti oggi, perché nel frattempo è del tutto evidente che l'unico modo per uscire dalla gabbia è quella di dimostrare di non essere contagiosi, come non sono contagioso io, ma sono pochissimi quelli che possono dimostrare di non essere contagiosi i cosiddetti guariti, 20-25 mila persone in Italia. Quindi tamponare tutti, che è una cosa banale e che tutti dovremmo fare, beh insomma ovviamente tecnicamente può avere delle complicazioni organizzative, ma è l'unica cosa per riaprire l'Italia, beh insomma sapete qual è la cosa più bella della giornata? La titola e la racconta il giornale oggi che la CGL Umbra, non mi ricordo di quale paese, gode come una riccia, sapete perché? Perché ha impedito ai privati di fare i tamponi, i tamponi solo pubblici e così ritorniamo a Borrelli, alla protezione civile, alle minchiate che hanno fatto dal primo all'ultimo giorno, quindi per non avere i tamponi privati, per cui uno può, un'azienda per esempio può tamponare tutti i propri dipendenti per vedere quali c'hanno e quali non c'hanno la malattia, questo non è possibile e la CGL gode. Beh fantastico, poi Giordano a proposito delle imbecillità di questa organizzazione mondiale della sanità, oggi sulla verità ci racconta tutte le cose sbagliate che hanno fatto, a partire dal fatto che il 23 gennaio quando già c'era il gran casino di Wuhan, questi super filo cinesi che cosa dicono? Beh dicono, beh guardate che l'ipotesi di una pandemia è piuttosto remota o moderata, il rischio di pandemia è moderato, 23 gennaio dopo un mese c'è la pandemia, ovviamente le pandemie non è che avvengono nel giro di anni, avvengono nel giro di giorni, ma insomma l'OMS che è quella che poi diceva non tamponare, poi diceva test e test col suo direttore generale dopo 20 giorni che diceva che le mascherine non servivano e poi servivano, insomma una roba fantastica. Poi riguardo alle mascherine è straordinario, perché oggi vedo un pezzo di travaglio che ce l'ha con Fontana circa da un mese e mezzo, che fa un solo articolo contro Fontana, il giornale fa un solo titolo di prima pagina contro Fontana e se la prende con Fontana che dice che c'è l'obbligo delle mascherine, toc toc! Guarda che anche la Toscana e il Piemonte hanno messo l'obbligo delle mascherine, anche quei paesi in cui ci sono solo quattro morti come Hong Kong hanno l'obbligo delle mascherine, allora io non voglio entrare nel merito, gli scienziati sono divisissimi, però prendere per il culo un governatore che fa quello che fanno paesi che hanno i dati più bassi di contagio forse insomma non è una cosa assurda, io forse troverei assurdo l'idea che uno dice una cosa e l'altro dice un'altra, che il capo della protezione civile non vuole la mascherina e il presidente di una regione la più importante dal punto di vista economico italiano la vuole, questa secondo me mi scandalizza. L'ultima questione politica e sociale che è un po' fuori ma che ti dà l'idea di come siamo messi è questa roba di Salvini, Salvini che cosa ha fatto? Ha detto riapriamo a Pasqua le chiese e qui devo dire che Antonio Polito sul Corriere della Sera in maniera molto ficcante dice una cosa sacrosanta, ma scusami quando Confindustria chiede di riaprire le industrie e io sono d'accordo con Confindustria, nessuno si scandalizza più di un tanto, quando Renzi ma non solo Renzi chiede la riapertura delle librerie perché la cultura è fondamentale beh insomma nessuno si scandalizza, quando Salvini chiede la riapertura delle chiese sembra uno scandalo incredibile, dice Polito sulla prima pagina del Corriere della Sera e dice beh insomma la religione dice Polito ha un grande valore sociale e quindi bisogna assolutamente poi cita il padre della sociologia, tutte le cose insomma molto corte, io penso che non sia questo il tema, cioè io penso che abbia ragione nella prima parte Polito, cioè non riesco a capire perché si possa chiedere di riaprire la Confindustria e le imprese, si possa chiedere di riaprire le librerie, non si possa chiedere di riaprire tutti i luoghi di culto per un semplice motivo, che l'individuo è fatto di tante cose, di lavoro, di religione, di spiritualità, di cultura, il problema sono gli arresti domiciliari, vi è tutto chiaro a tutti quanti, poi dopo si devono utilizzare gli strumenti migliori e più sicuri per non contagiarsi, chiarissimo perché ci si contagia in una fabbrica come in una chiesa e qualcuno può pensare che l'una sia indispensabile come l'altra, ma insomma ognuno è in un paese normale che non è governato dalla psicopolizia può decidere come gli pare, insomma io decido una cosa e gli altri decidono l'altra, ma l'altro, la cosa straordinaria scusatemi non è tanto questa, è che oggi io vedo su tutti i giornali la foto della Domenica delle Palme che per qualcuno è davvero importante, per qualcuno ha un grandissimo significato in cui tutti sono tenuti a casa e non possono andare a messa e Fontana, Sala e il prefetto di Milano, quello che una settimana fa diceva che i vecchietti che facevano due volte la spesa erano quasi dei criminali, beh che stanno al Duomo a prendersi la benedizione a messa, allora questo mi fa impazzire perché qua c'è un'elite di persone, io sono tra quelle che si fa i tamponi, che può lavorare, che può uscire, che può andare a fare la spesa oltre ad andare, c'è la possibilità di lavorare perché è giusto codice a teco, i politici, i giornalisti che possono uscire un po' un'ora d'aria da questi arresti domiciliari che dicono agli altri rimanete nei vostri 50 metri quadri, siete usciti senza mascherina a portare il cane a spasso a Milano, delinquente, dove stai andando tu con quel cane, sei in prossimità della tua casa, perché hai fatto la spesa con la pasta e non con il pomodoro, ecco questo lo trovo incredibile, cioè un'elite che sgrida un 90%, un'elite che gira, che va a messa, che fa le cose, allora con quale faccia si può dire ai fedeli di non andare a messa quando vedi questi tre che stanno al Duomo da soli, io lo dico semplicemente, non ci andate, non ci andate, Buffagni, foto oggi del giornale, senza mascherina, allora o la pensi come me Buffagni, che devi dire in giro, ragazzi cerchiamo di smetterla con questo lockdown, troviamo una via d'uscita il prima possibile, o sennò quello è un insulto alle persone che vengono fermate dai polizia perché non hanno la mascherina, cosa che avviene a Milano, oggi il ministro della famiglia Bonetti dice una cosa giustissima, sacrosante, un'intervista a Repubblica, cosa dice delle pari opportunità, dice ragazzi va bene il lockdown, rispettiamo il lockdown, però iniziate a dirci quando finisce, bisogna ragionare su questa cosa qua, se no qua non diamo una prospettiva, c'è ragione Boris, le mascherine non ci sono in farmacia, perché questa è l'altra grandissima contraddizione, tu non puoi dare un obbligo se non metti le persone in condizione di rispettarlo, chiaro? Questo è un punto fondamentale e il punto fondamentale è anche l'esempio, tu non puoi dire alle persone di non andare a messa e poi ti ci trovi alla Domenica delle Palme, io penso che sia una banale questione di coerenza, Becchis oggi scrive, norme e decreti dei virologi sono diventati la nuova religione, perché non si può andare a chiesa ma si può fare tutt'altro. Boris in ospedale, foto su tutti i giornali e quando io vedo Boris Johnson in ospedale, il Daily Mail dice che ci va per fare controlli perché sono dieci giorni che ha la febbre e non gli scende, che poi la patologia mi sembra che prende tutti quanti noi che abbiamo avuto il coronavirus, insomma la questione di Boris Johnson mi fa pensare, l'ho incontrociato ieri a Rete4, a quel virologo, epistemologo o quello che su Twitter ha scritto la seguente cosa su quando si seppe che Boris Johnson era stato contagiato, la fortuna è cieca ma il virus ci vede benissimo, vi fa orrore un medico che scriva questa cosa il giorno in cui Johnson viene preso dal virus, non vi fa orrore a voi? A me fa orrore e ieri quando ho visto lo palco, nonostante in televisione cerca di essere garbato, io ho pensato nella mia testa questo è quello che quando Johnson dice una cosa ha scritto il tweet la fortuna è cieca ma il virus ci vede benissimo, è un medico che voi stimate uno che fa una cosa di questo tipo? Ognuno la ardua sentenza. Sulla questione poi delle fake news oggi Gervasoni magistrale sul giornale perché hanno fatto una task force contro le fake news e questa task force la fanno a Palazzo Chigi, mi sembra un mondo normale, tant'è che come si chiama Gervasoni cita Orwell circa il 1984, io l'ho recensito ieri sul giornale perché bisogna rileggerlo, perché era tutto scritto là, cioè lo stalinismo del 48 è esattamente il comitato di salute pubblica del 2020, i principi sono quelli per cui si fa un comitato di antisovranisti come dice Gervasoni, questa è la caratteristica di tutti quelli che fanno parte di questo comitato che va a valutare le fake news. In realtà questa roba qui vi sembra delicata, è fondamentale perché in realtà questo avrà il timbretto di Palazzo Chigi per poter scrivere a Facebook, Google e a Twitter, che sono gli unici oggi strumenti di libertà editoriale fuori dal giornale unico della carta stampata, che gli dicono guarda che quelli schivano fake news, ragazzi le fake news è pieno il mondo, fanno schifo, io ricevo centinaia di video della minchia, non ce la faccio più a dover rispondere a gente che mi chiede del farmaco, della dichiarazione di Nature, dell'ultimo articolo, insomma purtroppo sono diventato un debunker per molti di voi e comunque circolano un sacco di fake news, però non esageriamo perché affidare questa roba a Palazzo Chigi vuol dire mettersi con la testa nel Ministero delle Verità, come diceva giustamente Orwell. Nel frattempo Ezio Mauro oggi in tutto questo casino piagnuncola per gli insulti e le minacce che ottiene il suo giornale, tra l'altro scrive perché è un prodotto ad alta soggettività Repubblica, già uno che scrive così ha perso forse il suo dono migliore, quello della scrittura, Mauro, perché se definisce Repubblica un prodotto ad alta soggettività verrebbe da dire come Lanni Morretti fece in quel famoso film, ma le parole sono importanti, ma prodotto ad alta soggettività non si diceva forse negli anni 70 nei circoli sociali, ma che cazzo vuol dire prodotto ad alta soggettività? Però lasciamogli il prodotto ad alta soggettività e dice che Repubblica rappresenta una pietra di inciampo e per questo veniamo minacciati dai social e quindi in realtà io non voglio, sia chiaro, ci sono dei miserabili, ci sono dei delinquenti che denunciano e che attaccano Verdelli, Ezio Mauro, Repubblica che mi fanno schifo, sono orrendi e ha ragione, Mauro bisogna beccarli e bisogna dargli responsabilità per le minacce, per le volgarità e per gli insulti, non minacce volgarità, per le minacce che rivolgono violente a Repubblica, quindi tutti con Mauro, però fermi perché adesso tutti quanti noi che facciamo questo mestiere, io avrò un giorno, io 5-6 volte al giorno mi augurano la morte, 5-6 volte al giorno, lo so, purtroppo ci sono queste merde di internet che nascoste ti augurano la morte, molti di questi sono troll, molti di questi sono persone che si fanno gli account finti, però insomma stiamo attenti, non è che Repubblica è il prodotto della soggettività, qua ognuno è minacciato da questi, quindi mettiamoci tutti insieme per trovarli, però invece di che cosa si occupa il governo? Delle fake news che sono una cosa diversa, perché le fake news decise da Palazzo Chigi mi fanno orrore, un controllo pubblico nei confronti della minaccia vuol dire polizia postale, questo mi sembra un po' più interessante da fare, però ovviamente si devono fare le fake news con i professori. Poi riguardo all'economia, il giornale che la tiene più alta, ultima chiamata, oggi ci sarà il decreto sulla liquidità e sul decreto della liquidità c'è stato un retroscena che ci racconta il messaggero a chi affidare questa gestione della liquidità, se alla Cassa Depositi e Prestiti o alla controllata Sace, siccome la Cassa Depositi e Prestiti viene considerata cosa di Di Maio, sostiene il messaggero, c'è stata una lotta tra Di Maio e il PD su chi dovesse controllare, a noi cosa ci interessa? Niente, il punto fondamentale è che questo decreto di liquidità dovrebbe dare pezzi, guardate sono molto confusi e poi nei dettagli si nasconderà il diavolo e li vedremo questa sera a Quarta Repubblica e cioè dovrebbero dare alle aziende liquidità, cioè prestiti, fino a 25 mila euro senza alcuna istruttoria, fino a 800 mila con una garanzia al 100% dello Stato. Ma qui Osvaldo De Paolini sul messaggero nota una cosa importante, stiamo attenti, perché se tu dai a tutte le aziende, anche quelle che erano prima in stato prefallimentare, 800 mila euro e la garanzia è dello Stato, sapete che stiamo facendo? Tutti noi italiani stiamo garantendo anche imprese che forse sarebbero comunque fallite, sarebbero comunque fallite e gli stiamo dando i nostri soldi con la nostra garanzia, siete contenti di utilizzare i vostri soldi per le aziende? Allora io sono anche uno di quelli, come vi posso dire, che dice cerchiamo di sbagliare pur di dare, quindi bisogna trovare il modo migliore, però insomma dobbiamo stare attenti a vedere questo decreto nei suoi dettagli. È per certo che il decreto oggi solo 24 ore per i 600 euro è una cosa orrenda, perché il solo 24 ore che cosa ha calcolato? Che sapete quanti sono i professionisti che non hanno, che avrebbero diritto a questo bonus? Sarebbero 500 mila, i professionisti che non sono iscritti all'Inps e che dovrebbero avere i 600 euro, sono 500 mila, sapete quanti ne avranno diritto? Solo il 50% di loro, perché in realtà non ci sono i fondi per i professionisti, come sempre avvocati, architetti, geologi, ingegneri, farmaci, tutti serie B, giornalisti, tutti serie B, va bene? Ed è una cosa fantastica. Direi che per oggi è tutto, però io non posso non ricordarvi che questa sera alle 21.30 noi faremo il ritorno di Quarta Repubblica e il punto di Quarta Repubblica, ve lo dico subito, se vi aspettate di vedere ospedali, morti, terapie intensive, virologi che ne dicono di tutti i colori, non li voglio, non li vedete, non guardate Quarta Repubblica questa sera. Se voi volete sapere i virologi che cosa ne pensano, non guardate Quarta Repubblica, ci saranno un medico, che è il nostro professor De Pierri, che ci spiegherà alcune cose, ma io non voglio più queste nuove star della televisione italiana che ci devono spiegare cosa dobbiamo fare noi. Se vengono a spiegare a me come curarmi, io sto zitto e muto, ma se vengono a spiegare al governo come comportarsi, io sono piuttosto in imbarazzo, perché la politica dovrebbe occuparsi di queste cose. Insomma, questa sera alle 21, se volete un programma un po' diverso, venite e ditelo un po' in giro. Ciao!